mentre scende la sera scende la sera vedete la no e quindi cala progressivamente il buio potremmo dire che è calato il sipario sulla carriera di gigi buffon perché ha deciso che la sua carriera finisce qua e lasciatemi mandare a gigi buffon un messaggio di grande ammirazione perché perché le decisioni le ha prese sempre lui parlando con la propria coscienza senza mai farsi influenzare dagli altri ha guardato sempre in faccia se stesso prima di prendere una decisione ha dialogato con se stesso ha interrogato se stesso e si è dato delle risposte e lo ha fatto anche questa volta questa volta ha sentito di dire basta ha sentito di dire stop e non mi interessa a quanti anni uno deve sentirsi dentro di sé qualcosa non deve guardare la carta d'identità ok e quindi a gigi che conosco da tanto tempo va tutto il mio abbraccio tutto il mio affetto tutto il mio orgoglio di essere tra virgolette amico di gigi amici è una parola dice una parola grande amico vuol dire frequentarsi vuol dire comunque avere una certa confidenza però perché no sì lo dico mi sento amico di gigi buffon devo devo rimangiarvi quello che ho appena detto mi sento amico di gigi buffon e e quindi sono molto felice per lui perché so che lui adesso è sereno ha preso questa decisione con serenità in tutta serenità ed è la cosa più importante avere la serenità dentro quando si decide di fare qualcosa poi ragazzi è ovvio che il calcio gli mancherà è come può non mancare il calcio ad una persona che ci ha vissuto un sacco di anni o praticamente tutta la propria vita gli mancherà ma ci resterà perché gli verrà dato un incarico all'interno della federazione nazionale nazionale probabilmente fra il capodelegazione ruolo che ha stato di di gianluca vialli e poi è solo l'inizio di una nuova carriera di gigi questo sono assolutamente convinto posso dire di aver visto conosciuto tutte le tappe della sua carriera io ricordo benissimo quando era in nazionale io in quel periodo seguivo la nazionale al posto del mio amico e collega scomparso alberto da guanno e ricordo quando gli dicevamo in nazionale si aveva già deciso di andare alla juve alla roma perché allora era in ballottaggio tra juve e roma e lui non ti dava mai una risposta la risposta secca perché francamente non aveva ancora deciso ma era la verità è sempre stato così genuino lo ricordo ancora oggi romeo agresti ha postato su twitter una foto del suo arrivo a torino giorno le visite mediche più capelli lunghi e questa porsche gialla che ricordo perfettamente perché io c'ero quel giorno e lui arriva con la porsche gialla aveva mi ricordo la cravatta si era tolto la cravatta dopo la presentazione lo beccato dopo la presentazione lì nel l'antistagio del vecchio comunale aveva messo la cravata che dava fastidio la cravatta lì sul sul sedile della macchina e si era fermato dicendomi ciao grande balza ed allora mi ha sempre mi ha sempre apostrofato così e io gli ho sempre detto ciao grande gigio perché perché così perché questo è sempre stato il nostro rapporto schietto e e da lì insomma posso dire di aver visto direttamente con questi occhi senza anche occhiali tutta la sua carriera tutto il suo tutta la sua passione per questo per questo sport è stato immenso e grande tifoso del parma quando ha giocato a parma è stato immenso e grande tifoso della juve quando ha giocato per la juve ed ha tuttora la juve dentro perché si è plasmato con la juventus e la per lui è qualcosa di immenso di di incredibile è una lezione di vita e poi non si può dimenticare quello che ha fatto dopo calciopo legge buffon il numero uno al mondo non solo come portiere ma anche come portiere della nazionale campione del mondo che decido di seguire la juventus in b questo vi dà l'esatta dimensione di quale sia la personalità di buffon e quanta umiltà abbia sempre mantenuto la semplicità che ha sempre mantenuto in tutte le cose che ha fatto vi posso garantire che sì ne erano rimasti diversi i giocatori ma 33 sentivano veramente dentro questa passione buffon del piero manco a dirlo e pavel nebbene quell'anno lì gli altri diciamo che più o meno erano stati costretti a rimanere più o meno è perché poi dopo non si sono pentiti della scelta però c'è voluto qualche input diciamo così basta perché sennò dovrei parlare per 3 4 ore di gg buffon e quindi mi riservo di dirgli certe cose in privato però mi sono già abbastanza espresso subito non ci sono novità naturalmente rispetto al video fatto questo pomeriggio tardo pomeriggio sulla questione lukaku mi dispiace che qualcuno abbia ancora una volta travisato le mie parole nel senso che non credo che si capisca dal mio video che sto tirando la volata ad allegri e sto dicendo che è meglio che arrivi lukaku no perché veramente mi sono mi è toccato a leggere queste cose mi è toccato a leggere queste cose veramente devo dire che c'è un mondo di pazzi lì fuori o qua fuori e intendo dire generale o sono scherzi o sono su scherzi a parte non lo so vabbè comunque evidentemente c'è qualcuno che si diverte e va bene prendiamolo come un divertimento abbiamo scoperto anche oggi ne abbiamo avuto la conferma che le plusvalenze si fanno in due ma guarda un po il ministro avodi ha detto che le plusvalenze si fanno in due non è stato molto tempestivo ecco diciamo l'ha detto dopo che il il casino o forse non lo so o forse non lo so vuole essere una constatazione in vista di future situazioni e vedete la sandoro cosa sta succedendo non non è detta che non ci siano altre procure che vadano ad indagare adesso che ci siano altre altre situazioni fatto sta che i 100 milioni per le plusvalenze ce li ha rimessi solamente la juventus in questo momento per le plusvalenze che si fanno in due eh sì come si chiama questa volta da peffa non lo so come 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 vogliamo definirla ecco perché l'esclusione dalla champions è stata determinata dalla filone plusvalenze eh sì piaccia o non piaccia dal filone plusvalenze che si fanno in due eh sì si fanno si fanno proprio in due iscrivetevi al canale ci vediamo domani quando ci sarà anche il sole di dietro poi c'è il giardino si fa fuori insomma c'è la vista lago c'è un sacco di cose carine ciao a domani iscrivetevi al canale